ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale passione motori allora arrivando a casa nostra sinna gaggiri noto motovlogger vicentino ora devo andare anche in box a sistemare per farci stare anche il dominator di sinna e tra l'altro devo portare giù anche la tuta da moto che mi ha mandato xl moto bene eccola qui questa è la tuta che mi hanno mandato anche con i guanti ciao axel saluta bravo dimenticavo cosa importantissima la felpa che ho addosso che quella che indosserò ad eicma quando venite ad eicma perché dovete venire se indossate la stessa felpa è più figo oh 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 mi sa che mi hanno già sgamato raga mi ha chiamato sinna che è arrivato andiamo a prenderlo sa pure più avviginando chissà quanta acqua che ha preso sto povero uomo eccolo ciao carissimo allora come va bestia e che potenza il dominator allora qua abbiamo dei fan salutate non so neanche come come l'ho legato sinceramente quindi bene ragazzi benvenuti ad eicma 2017 siamo qui insieme a noisy boy e a sinna ovviamente adesso andiamo giù a vedere un po gli stand perché vi faccio sapere anche dove sarò quindi mi raccomando segnateveli e così sapete dove trovarci l'appuntamento importantissimo è il primo appuntamento in cui mi troverete ed è veramente molto importante sarà venerdì stand mafra padiglione 9 ci sono dalle 12 del pomeriggio e mi trovate anche fino a sera dovete assolutamente portare le vostre fidanzate perché ci sarà l'evento con le donne allora qui siamo allo stand suzuki aspetto sabato alle ore 15 30 per fare la sessione di autografi e foto insieme eccetera eccetera allora siamo adesso all'interno dello stand mv non si potrebbe entrare ovviamente guardate questa moto ovviamente un pezzo unico che ci danno le maglie raga adesso vi faccio vedere una roba allucinante cioè raga queste sono le pedaline per il passeggero allucinante guardate questa raga c'è ciao la raga se andate nelle stories di instagram passore motori trovate i giorni gli orari e gli stand in cui trovarmi anzi trovarci perchè poi sarò anche con altri youtuber miami 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 miami